Questa stanza qua, quanta roba, quanta Ehi, ah, uno specchio Sono io, sono io uno specchio, Eric Un libro intitolato una storia buffa C'era una volta un uomo ricco che trascinava un carrello pieno di ricchezze Il suo carrello si ruppò nei boschi Ma li passarono un cacciatore e il suo cane L'uomo ricco chiese al cacciatore di tenere d'occhio il suo carrello E il calciatore, eh, il calciatore E il cacciatore fu d'accordo L'uomo ricco andò a prendere un nuovo carrello Nel frattempo il cacciatore continuava a sorvegliare La notte è uscita in fretta e il cacciatore iniziò a preoccuparsi Per la sua anziana madre ancora in casa Così il cacciatore disse al cane di sorvegliare il carrello E andò a casa a controllare la madre Allora, il suo cacciatore era ubriaco Posso dirvelo io Quando l'uomo tornò vede il cane di guardia Così diede al cane una ricompensa per il suo padrone e una moneta di argento Che portò in bocca Il cane corso a casa e portò la moneta al suo padrone Ma il cacciatore si infuriò Ti ho detto di sorvegliare il carrello E tu cosa hai fatto? Ne hai rubato una moneta Così il padre uccise il cane, no Cacchio Cacchio ti ridi? Un po' di rispetto, eh? Non è una storia buffa, è una storia triste Però potrebbe essere... Cioè, è vera, eh? Casa della strega 1 Le chiavi non aprono porta a casa della strega Qualcos'altro deve fungere da chiave Ok, questo l'ho già visto Che poi appaiono un orsacchio a tutti vari Casa della strega 2 La forma della casa cambia a seconda della magia della strega Ah, ok, rompe le palle anche, bene Sono contento C'è qualcuno di invisibile lì Parla Non riesco a ridirne questi libri Inserio qualcosa per legarli insieme Cosa vuoi? Il muro è macchietto di rosso ed appiccicoso Eh, il pomodoro di prima Bene, abbiamo imparato tante cose sul... C'è una piccola schierta sulla porta Salva la farfalla C'è solo un piccolo problema Se vado a salvare quella farfalla Mi accoltella il ragno gigante Cioè, è talmente grosso quel ragno Che davvero scende giù col coltellino Viene lì Raga, ho bisogno di qualcosa per salvare Devo salvare questa farfalla? Mi hanno detto, giusto? Se ritolgo la farfalla al ragno Il ragno viene giù e mi accoltella Quindi, come facciamo? Cioè, dovrei... Forse devo prendere questa farfalla qua Perché comunque mi fa cliccare su quella Però non so come prenderla La teca lì non si muove Aspetta, 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 aspetta Corda nel barile c'era? Non è che per caso dentro uno di questi barili c'è una corda? Con quella corda si può... Si possono legare i libri Aspetta, aspetta Pam! C'è un pezzo di corda nel barile Ottimo Ottimo Quello che mi serviva Adesso viene a romper il ragno No, ok Allora, corda nel barile Allora, c'è qualcuno invisibile? Parla, non riesco Cioè, bla 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 Io c'ho una corda per te Ah, mi stai dando questa corda? Sì, se non la usi per impiccarti E sì Grazie, prendi questo Un libro della morte Posso leggere il libro della morte? No, muoio Stai a vedere che muoio Non ci credo No, raga, no Ma perché sono scemo anch'io? Ma chi può leggere un libro della morte? Allora, il libro della morte Dai, abbiamo un libro della... Dove stai andando? Fai il tuo lavoro qua Te devi star ferma Abbiamo un libro della morte Cosa ci faccio con il libro della morte? Ci spacco la teca Non mi frega un cacchio Il libro della morte No, non devi leggerlo Devi spaccare la teca No, niente Non si spacca la teca Maledizione Maledetti libri della morte Manca un libro È il libro della morte Metti il libro sullo scaffale Ok Hai messo il libro nella libreria Hai sentito il coperchio di una teca? Ok Sai che si muove qua Porca miseria C'è porca vacca Ma è miseria C'è porca vacca Cosa diavolo è successo? Cosa diavolo è successo? Non è possibile che ogni 3x2 qua succeda qualcosa eh Dai Su Questa cos'è? È la testa È la testa umana Che schifo di roba Ma cos'è? Ma che cacchio è? Fregata 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 Fuori di qui Fuori di qui Fuori dalla testa Maledetta schifosa Infame Muori È andata via vero? Ok è andata via Ma ti sta benissimo Cioè modellino prendi Adesso si può spostare Ottimo Oh Questo volevo Volevo la farfalla io Perché volevo la farfalla? Che cacchio Sei tornata qua allora? Probabilmente erano andati in pausa pranzo eh O c'hanno bisogno anche loro di un attimo di pausa Su Allora io Ma io prendo sta farfalla Attenzione Perché ho capito come funziona il tutto E metto il modellino di farfalla Sbam Che si può fare Ottimo Adesso il ragno mi viene a rompere ancora le palle Cosa ho fatto? La farfalla svolazzo io dalle tue mani E se la svigna attraverso il muro Ma che cacchio di farfalla era? Che droghe Gatto Qua si è aperta la porta Qualcuno pensano ad una corda Ma dai Ma io non sapevo che poi si andava a impiccare Allora qua stanno tutto prendendo un po' troppo alla lettera queste cose Perché Se uno ti dà una corda Non è che ti devi impiccare per forza Cosa sto facendo? Dove sto andando? Non so dove sto andando minimamente Gatto nero Io Eh vabbè salviamo Cioè qua Boh Gli dai una corda a uno Si impicca Gli dai una mano all'altro E ti taglio il braccio Vabbè È un po' esagerato Il muro è macchietto di rosso E appiccicoso È sempre il pomodoro di prima Porca miseria Sì ma cacchio Cos'è successo adesso? Chi mi ha ucciso con cosa? Siamo a due indizi Del genere No? Niente? Le fiamme delle candele Ondeggiano Intanto mi è ripartito qualcos'altro Non so che cacchio Hanno tirato Porca miseria Ma chi che lancia i coltelli? Ma chi siete? Dei circensi? Ma che sta succedendo? Ti piacciono le rane? Sì In realtà sì La rana ti sta seguendo Grazie rana Cosa fa? Mi uccide da dentro adesso? Dove è andata quella rana soprattutto? Comunque questa è la casa di una strega Ma dai Porca vacca Io pensavo di essere finito in una macelleria Ispezione al ponte È più sottile della tua gamba Si romperebbe in qualsiasi momento sotto il tuo peso Ah sono contento Riesci a vedere una specie di leva Ok no Allora se l'attraverso scioppo Mi serve una corda C'è ancora la corda? No c'è una rana Vai rana Cosa? Davvero? Fai traversare la rana? Oh mio dio Vai rana Big rana E attiva pure le leve Vabbè Senti qualcosa di sbloccarsi da qualche parte Torna indietro piccola rana Torna da me Bellissimo Porca miseria Cia porca Forza sono vivo Cos'è successo? Chi era? Allora già il fatto che non sia morto va bene Sono contento La porta si è aperta Brava rana Ok sta cosa è particolare Sta cosa è peculare Aspetta che lo so già Una pianta ben fissata al pavimento Questa non è ben fissata al pavimento Ragazzo io cosa si fa qua Ma sono troppi anni che gioco a questi giochi Allora c'è una rana sulla sedia qua Una sedia rossa fissata Devo metterci la rana sopra Fai sedere la rana Prego rana Cioè in teoria ho fatto tutto giusto? O manca qualcosa? Ci entra forse la rosa? Ah nel vaso ci sono sei rose Ok quindi ne prendo una Ce ne sono cinque adesso Qua ci sono sei rose No allora andava bene Scusa Abbiamo sei e sei In teoria è tutto apposta no? Però in immagine è speculare Cosa manca? Ho fatto tutto Dite che forse questo è il quadro qua sul muro? Che dà fastidio? No perché è comunque bloccata sta porta Eh come cosa devo fare scusa? Non capisco cosa mi manca di speculare Non c'è più niente di speculare lì Ho fatto tutto Ho completato No mi si è risettato il robo Ah ma allora Aspetta aspetta un attimo Perché vedete che mi sposta tutto Tranne che Cioè mi sposta I quadri E le foglie Lì sotto Però tutto l'altro rimane uguale Perché? No raga mi manca qualcosa Cioè non si attiva niente Ho letto male io forse Ho letto male qualcuno L'immagine è speculare Eh Strappa il foglio Hai strappato il foglio Ok va bene Le stanze di sinistra e destra sono specul... Porca vacca c'era il foglio Toglio... Eh ma allora Maledetti fogli Infami Cos'è? Cos'è successo? Ah la rana Vuole venire con me Eh ma ho capito Ma così togli l'immagine speculare No è comunque aperta la porta Allora non ha senso Vabbè Strano Pensavo qualcosa avesse senso No non ce l'ha Attraversa la prossima porta E non lasciare che qualcosa ti distragga Fami leggere il diario della strega Mio padre e mia madre Non mi volevano bene Così li ho X Sono rimasti in questa casa da allora Bene sono contento Ur 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 Oh oh Ma che cacchio Che diavolo No raga non mi dite che devo Ok cacchio è successo Attraversa la prossima porta senza Ah e non lasciare che qualcosa ti distragga Ok allora devo andare avanti Tiè Al diavolo Stupidi coltelli volanti Della morte C'era Io volevo andare a salvare dal gatto Ma non devo fare Non devo farmi distrarre Maledetto gatto infame Non ci credo Che schifezza Ha fame E anche io ho fame in realtà Ah oddio Aspetta cos'è C'è qualcosa dall'altra parte Guarda la porta Ascolta attentamente Apri la porta Guarda la porta C'è una finestra La grande quanto la tua mano Guarda attraverso la finestra Non mi cidere Vedi delle viscide squame nere Ascolta attentamente Senti qualcosa di grosso strisciare Eh non me lo fate sentire Volevo capire se era qualcosa Ah se apro la porta Mi sa che muoio vero Bene Allora io direi che possiamo tornare indietro Non siamo tornati indietro qua Qua stiamo andando avanti da qualche parte Siamo tornati dove eravamo prima E' sparito il corridoio Ah sono contento Bene Ragazzi direi che Per questo episodio possiamo terminare qua Perché in realtà sono 45 minuti Sono tre quarti d'ora che sono qua Non mi sono scordato che Devo fare un episodio Forse ne faccio due Vabbè fa lo stesso In ogni caso termino qua Questi due episodi The Witch House Fatemi sapere Probabilmente me l'avete fatto sapere La scorsa volta Fa lo stesso anche quello Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Sempre su The Witch House Appunto Qui dall'Anulf è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.